ben tornati a quarta di copertina suo obiettivo news il programma che parla di libri di persone che hanno portato avanti un progetto editoriale anche legato all'arte o alla musica e quindi vi aspettiamo con i vostri cataloghi e il programma che dà spazio alle tante idee creative che potete avere che avete già concretizzato per partecipare basta scrivere a deborabocchiardo chiocciola gmail.com l'ingresso in studio è previsto con mascherina e poi le interviste vengono realizzate in totale sicurezza con un separe in plexiglass quindi venite a trovarci con tranquillità questo è un modo per pubblicizzare le vostre opere anche in un momento di limitazioni come quello che possiamo pensare sia quello attuale oggi con noi abbiamo un ospite che viene da Biella si chiama Laura Zona è un'infermiera che fa l'infermiera con grandissima passione ma che con altrettanta passione da qualche anno ha iniziato a scrivere ha dato spazio a questa sua vena creativa e da questa idea sono nate non soltanto due opere letterarie e due romanzi ma anche dei racconti che hanno vinto premi nazionali di recente è stata terza classificata nel premio letteratura d'amore del centro cultura e società di Torino di Ernesto Vidotto che salutiamo perché è un caro amico e poi è stata tra diciamo le opere premiate con menzione speciale al premio La Ginestra a Firenze quindi un'autrice emergente che travalica i confini del Piemonte che oggi è qui a quarta di copertina per raccontarci un po' la sua esperienza come nasce questa tua passione letteraria? Ma in realtà la passione per la scrittura è da sempre con me sì da bambina mi è sempre piaciuto scrivere diciamo era uno spazio mio ecco in cui mi raccontavo mi esprimevo diciamo era un modo per intrattenermi e tirare fuori le cose che avevo dentro poi nel corso del tempo ma è passato molto tempo soprattutto dopo la nascita di mio figlio e l'esperienza importante che diciamo questa questa nascita ha generato ho cominciato come dire a dedicare più spazio più tempo alla scrittura poi sia sul lavoro in ambito infermieristico domiciliare abbiamo fatto delle esperienze di narrazione di storie di casi clinici con pazienti e da lì poi la scelta di fare un master in medicina narrativa e quindi poi come dire di conseguenza anche il piacere di poter sviluppare in modo un pochino più specifico appunto la scrittura ecco cominciamo dai tuoi libri e poi vorrei analizzare con te anche questi racconti perché questa tua voglia di esprimerti ti ha portata anche a fare delle delle cose che sono legate al periodo che stiamo vivendo ma lo vedremo dopo non anticipiamo niente una cosa sola leone editore è il libro che ci hai portato oggi che però diciamo è il sequel o in un certo senso è come dire l'evoluzione del primo libro che ho scritto che era come dire una sorta di scommessa in fondo con me stessa no c'è il fatto di avere messo nero su bianco una serie di riflessioni di idee di esperienze vissute quando su facebook ho visto che book sprint editore dava l'opportunità a scrittori emergenti di poter come dire veder concretizzata la loro opera narrativa sotto forma di libro beh ho detto perché non provarci e quando effettivamente mi sono trovata questo libricino e quando appunto mi sono ritrovata fra le mani questo libricino mi sono detta che forse si poteva tentare qualcosa di più e allora l'ho elaborato l'ho come dire riscritto un po' e l'abbiamo pubblicato poi leone editore l'ha visto e mi ha chiesto se volevo implementarlo ampliarlo diciamo come dire arricchire un po' di più questa prima stesura e così è stato e in effetti nel giro di sei mesi questo libro appunto si è presentato al pubblico con questa copertina che tra l'altro mi piace molto perché in un certo senso mi rappresenta non è una mia foto però comunque mi dà questo senso di leggerezza che è anche un po' come dire il leitmotiv del libro di cosa parla? di raccontare è un romanzo autobiografico che parla proprio di quella che è stata la mia esperienza di vita ma che soprattutto è legata alla nascita di mio figlio che è stato come dire colui che mi ha preso per mano e che mi ha accompagnato in un percorso di profonda trasformazione beh allora i particolari non li diamo giustamente perché devono leggere il libro il libro distribuito in libreria si trova? sì assolutamente perché è ben distribuito si può trovare in qualsiasi libreria anche su Amazon quindi è facilmente acquistabile ecco tu col tuo mestiere di infermiera fai anche l'assistenza domiciliare l'ho fatta sì per tanti anni l'hai fatta sì questo ti ha permesso di entrare in contatto con personaggi che ti hanno lasciato qualcosa uno di questi personaggi è Sergio Clerico a cui tu hai dedicato anche un pezzo che sta partecipando a dei concorsi letterari e un articolo che verrà pubblicato sulla rivista Occhi Aperti dell'associazione Proletinopatici e Povedenti perché Sergio Clerico era un artista di fatto e nell'anima non vedente sì è diventato appunto cieco nel corso del tempo a causa della malattia il diabete e negli ultimi anni effettivamente proprio era diventato completamente cieco però aveva questa memoria nelle mani e attraverso questa memoria attraverso le mani lui riusciva a creare degli oggetti bellissimi dei fiori di carta crespa lui è stato un artista creava lampade dipingeva cioè era poliedrico poi amava il canto amava il teatro quindi si era come dire attivato tantissimo nel corso della sua vita aveva vissuto delle esperienze anche veramente straordinarie e quindi è rimasta dentro di lui questo desiderio di esprimersi nonostante appunto la vista l'avesse abbandonato però con le mani riusciva a intrecciare questi fiori e creava delle composizioni meravigliose e su cui poi spruzzava del profumo esatto perché per lui era proprio la volontà di creare qualcosa di estremamente reale e quindi questi fiori che tante volte confezionava con questa carta con i brillantini quindi delle rose bellissime su cui spruzzava il profumo perché effettivamente ti dava l'impressione di avere un mazzo di rose vere in mano e tu comunque sei stata protagonista di un filmato di voi due per cui nella tua attività di infermiera a domicilio comunque l'hai assistito è nata un'amicizia e avete partecipato a questo progetto dando vita a questo chiamiamolo se pare di vita domestica visibile peraltro diamo anche ai nostri telespettatori la possibilità assolutamente sì perché fa parte di un web documentario che è in rete si può vedere sia come sito i luoghi della cura sia come sito sempre della SBI voci e immagini di cura dove appunto sono presenti tutta una serie di artefatti che riguardano il mondo della cura, il mondo dell'assistenza questo era un progetto specifico che parlava della relazione di cura quindi della relazione che si costruisce, che si crea tra pazienti e operatori della cura all'interno del web documentario sono presenti tre storie di cui una appunto la mia Laura e Sergio si intitola ed erano degli spaccati di vita tra appunto operatori, infermieri e pazienti dove si viveva proprio l'esperienza dell'assistenza in diretta ecco c'è uno scambio continuo mi sembra di capire tra la tua esperienza di donna, tra la tua esperienza di infermiere tra la tua esperienza di scrittrice in quale maniera ti ha arricchito tutto questo? ma è stato un intreccio, devo dire che raccogliere le storie di vita è sempre stata una cosa importante da un punto di vista assistenziale perché conoscere la storia di una persona permette di creare proprio un processo di assistenza personalizzata, riesce ad aiutarci a capire il perché di tante cose e quindi a calibrare i nostri interventi appunto sulla base di questi aspetti di vita nel contempo dalle storie degli altri si arriva alle proprie storie perché comunque noi siamo fatti di storie e l'idea di raccontare la mia nasce proprio dal fatto di averne conosciute tante un'altra in particolare che viene citata anche nel libro e di questa signora che amava scrivere anche lei e attraverso la scrittura, lo spunto di farla scrivere sono riuscita in un certo senso a fare leva su alcuni aspetti educativi riguardanti proprio la sua patologia e lei con lo spunto della scrittura mi ha raccontato tutta la sua infanzia ha riempito quaderni in formato A3 e da lì è venuta fuori anche lì un'altra esperienza molto molto bella che appunto cito nel libro perché comunque dalle vite degli altri si impara sempre qualcosa e nel misurarsi con gli altri si arriva poi a conoscere noi stessi ed è in un certo senso proprio il punto focale del libro Una cosa sola ha vinto la menzione speciale al premio La Ginestra di Firenze mentre con il premio Letteratura d'Amore del Centro Cultura e Società di Torino ti sei classificata terza utilizzando un racconto che dire attuale dire poco perché è amore a tempo di virus come è nato? come ti è venuta l'idea di due innamorati che si conoscono durante la quarantena al Banco Frutta? ma in realtà ero al supermercato che compravo la frutta e non lo so, quel sacchetto di arance mi ha sortito questa idea di un amore che può nascere anche nel posto più impensato in un momento anche di isolamento e di separazione e in questa storia ho voluto proprio metterci tutta la speranza comunque che anche in un momento così difficile la vita continua, la vita ha ancora un suo significato queste due persone che hanno a loro volta delle esperienze anche abbastanza sofferte e che via via appunto da una settimana all'altra si danno un appuntamento per ritrovarsi nella speranza e poi nella certezza comunque di poter davvero costruire anche qualcosa quindi questo è stato il primo dei racconti che ho scritto nel primo lockdown mi veniva l'ispirazione legata proprio a quelle che erano le storie di vita quotidiana che incontravo quando appunto mentre tutti erano chiusi in casa io giravo con la mia macchinina dell'ASL e andavo appunto in giro per ambulatori e incontravo queste persone che mi raccontavano delle loro vicende del loro isolamento, della difficoltà a incontrare gli altri e da lì appunto è nato così sono nati tre racconti e poi è nato quello che in questo momento è ancora in fase di elaborazione di cantiere un nuovo romanzo ah quindi puoi già darci qualche anteprima? ma una piccola anteprima, piccolissima anteprima è che anche questo romanzo nasce come dire allo spunto proprio dal momento del lockdown dalla separazione, dall'isolamento da questa signora, anzi da queste due donne che si incontrano su un balcone e da lì avviene come dire un po' una scintilla emotiva che fa scattare un racconto di vita è uno scambio che appunto via via che la storia si sviluppa porta a tutta una serie di vicissitudini anche di sviluppi particolari che appunto poi non vi posso naturalmente bisogna aspettare il nuovo libro anzi appena verrà pubblicato noi vi diamo appuntamento per un nuovo incontro con Laura Zona in modo da presentare questo neonato ecco se non cambierà il titolo potrebbe essere La collina in fiore Sì perché il titolo è qualcosa di particolare c'è sempre quel flash prima che l'opera vada in stampa in cui ti arriva il titolo giusto che colpisce e dici quello è proprio il titolo da dare a quest'opera Forrester insegnava che bisogna scrivere prima con l'anima e poi con il cervello ovvero prima si deve scrivere di getto quello che arriva con l'ispirazione come hai fatto tu col sacchetto delle arance quando hai scritto un amore a tempo di virus e poi in un secondo momento si lima, si corregge si fa caso all'errore di ortografia si cambia il tempo, si aggiunge la descrizione si fa crescere però l'input, l'ispirazione arriva così di getto non si capisce da dove ma arriva magicamente per te è così sì, è così, per me è come se io entrassi in un flusso quando arriva questa idea, tante volte arriva di notte nel primo mattino, le prime ore del mattino e quindi è quasi la necessità di alzarsi e di andare a scrivere qualcosa per fermare quell'idea e poi si entra come in un flusso si diventa parte dei personaggi, della loro storia non sono io in quei personaggi però è come se fossi dentro alla loro storia mi sembra proprio di vivere con loro di pensare con loro e da lì di immaginare come possono muoversi che cosa possono dire come si sviluppa la loro vita diventa veramente una cosa affascinante un tutt'uno ed è una cosa che mi cattura che richiede tempo perché è bellissimo scrivere ecco tu fai un lavoro all'infermiera per cui io ho grande rispetto perché avere a che fare con le persone che soffrono gli ammalati è un lavoro che implica una vocazione secondo me perché comunque devi prendere le distanze dalla sofferenza degli altri ma avere anche la giusta dose di empatia perché non è a che fare con degli oggetti da aggiustare ma con delle persone che hanno un ruolo svolto interiore in questo momento particolare legato all'emergenza sanitaria quale esperienza hai del contatto con il pubblico con gli ammalati con l'assistenza ecco ci sono stati degli attimi in cui sei stata più coinvolta o in cui ti sei preoccupata di più della situazione ma in realtà no in realtà devo dire che comunque io il lavoro lo svolgo con molta tranquillità con molta serenità perché in fondo il percorso che ho fatto e ciò che è accaduto dentro di me mi ha aiutato comunque a capire che ciascuno di noi è anche un po' artefice della vita e delle cose che accadono e sono convinta sempre di più che la malattia sia legata comunque anche a ciò che pensiamo alle nostre paure a quanto siamo agganciati alla nostra emotività per cui una cosa che io dico sempre a tutti coloro che incontro è questo cioè cercate di pensare con serenità il più possibile cercate di non abbandonarvi alla paura all'incertezza al fatto che cosa succederà domani non lo sappiamo vivete il presente per quello che che vi sta regalando se ci sono cose belle cercate di di renderle sempre più importanti e se ci sono cose che vi turbano cercate di di non dare a quel turbamento quella quella carica emotiva di non nutrirlo di non nutrirlo perché questo secondo me può enfatizzare la malattia può portarci a stare male quindi è come se io sapessi fin dove arrivo e quindi ho i miei paletti so per certi versi che la malattia degli altri è anche frutto di un proprio percorso e quindi io cerco di sostenerli in questo modo centro in empatia con loro per il momento in cui necessita il mio intervento peraltro io sto facendo tamponi quindi a livello proprio tecnico l'intervento è molto rapido però è anche vero che in 5 minuti si possono anche dire delle cose importanti per le persone cioè dare loro veramente ascolto perché quello che io ho riscontrato in questo tempo sia nel primo lockdown ma anche in questa seconda parte di pandemia è che c'è tanta solitudine tanto tanto isolamento soprattutto le persone anziane che vivono sole che non hanno contatti con i parenti perché nel caso appunto di persone positive ovviamente l'isolamento è fondamentale e quindi il nostro intervento a volte viene visto proprio come uno sprazzo di luce uno sprazzo di sole che entra in casa e io cerco di usare quel momento proprio per dare tutta la luce che posso e con l'esperienza con Sergio Clerico questo artista che aveva veramente le mani d'oro pur essendo non vedente è stato emblematico ma hai avuto altri incontri hai conosciuto altre persone a cui hai dedicato come hai fatto con Sergio Clerico uno scritto sì sì assolutamente anche lì ho contribuito ho dato un piccolo contributo a un convegno sempre sulla medicina narrativa e ho raccontato la storia di un altro paziente che ho seguito per tanto tempo perché assistere una persona per tre anni significa proprio entrare in simbiosi ed entrare nella vita di questa persona e devo dire che con lui è stato un altro dei tanti percorsi bellissimi che mi hanno regalato tanto a livello professionale ma soprattutto a livello umano perché comunque diciamo la partenza è stata negativa perché era una persona particolare sì non facciamo nomi per tutelare la fraiva sicuramente non c'è più peraltro è una persona che non c'è più però come dire tutti con lui avevamo litigato perché era difficile entrare in sintonia con lui però a un certo punto io mi sono messa nella condizione di dire che non potevo giudicarlo per quello che lui pensava e veramente ho fatto un passo indietro e ho cominciato ad ascoltarlo perché ho capito che l'ascolto per le persone che hanno problematiche di salute è un elemento importante e quando io ho cominciato ad ascoltarlo ho capito dove era il suo problema cioè che lui nella sua condizione si vergognava si vergognava perché si sentiva sporco si sentiva brutto e pian pianino ascoltandolo ho cominciato a dargli spazio e ad aiutarlo a capire che non c'era necessità di sentirsi così in questo stato di vergogna e da questo piccolo passo si è creata fiducia si è creata appunto empatia e da lì dopo tre anni siamo arrivati alla guarigione al fatto che lui ha recuperato la sua autonomia che è riuscito comunque a gestirsi la vita in maniera come dire più favorevole ha cominciato a guidare quindi è stato veramente anche lì un grande io lo definisco un piccolo grande successo ecco basato semplicemente proprio sull'ascolto e sulla e sull'umanità quanto è liberatorio per chi fa un mestiere a contatto spesso e volentieri con la sofferenza poter elaborare questa sofferenza e farla diciamo concretizzare in un racconto in un capitolo di un libro in un personaggio aiuta tantissimo aiuta veramente tantissimo io ho fatto un'esperienza con dei pazienti affetti da malattia di Parkinson abbiamo fatto con loro un percorso un laboratorio di narrazione di sviluppo di digital storytelling peraltro sono visibili sul sito voci e immagini di cura è stato un percorso bellissimo anche con loro perché attraverso il racconto da prima della malattia in tutte le declinazioni visite percorsi eccetera per arrivare poi a estrapolare dalla loro esperienza un momento importante positivo quale poteva essere per esempio non so il giocare con i propri nipotini impastando la farina per fare la pizza perché era l'unico modo per poter giocare con loro perché la malattia impediva oppure il racconto di una di un'avventura in montagna per un paziente che non avrebbe mai potuto più effettuare come dire una scalata ma il raccontarlo e il paragonarlo alla volontà di affrontare ancora la malattia e così tanti altri personaggi appunto con i quali siamo entrati veramente in intimità perché poi il racconto e la scrittura porta a quello e che alla fine hanno ringraziato perché comunque da una parte loro hanno tirato fuori come dire degli aspetti insondati e per loro è stata una sorpresa dall'altra è stata una testimonianza che come dire loro hanno potuto lasciare ai loro figli ai loro nipoti una traccia di sé che è rimasta nel tempo e quindi secondo me la scrittura ma anche per gli operatori della cura abbiamo fatto anche lì altre esperienze con loro e devo dire che è sempre un momento catartico un momento di trasformazione che permette di scoprire delle risorse cioè questo che per me è importante che attraverso la scrittura a volte si scoprono davvero delle capacità delle risorse mai sondate che ti danno una come dire una forza in più come dire a te da forza la scrittura tantissimo per me è un grande strumento è stato uno strumento come dire scrivere il libro questo libro una cosa sola in particolare perché l'ho riempito di tante cose come dire ancora più introspettive è stato scriverlo per raccontarmelo e poi per condividerlo con gli altri ma non per cercare solidarietà per cercare come dire un appoggio ma semplicemente proprio per trasmettere alle persone la possibilità di cambiare la propria vita e di cambiarle in meglio ecco molti in questo momento magari stanno attraversando un momento difficile questo cambiare in meglio tu l'hai provato sulla tua pelle quanto ti è costato e dove hai trovato il coraggio il coraggio come dire è arrivato con la nascita di mio figlio perché la nascita di mio figlio mi ha messo in una condizione particolare di scelta di scelta come dire per offrirgli un futuro un futuro diverso e questo implicava che io dovessi guardare il mio passato e quindi affrontare tutti quei piccoli chiamiamoli demoni ricordi cose anche fallimenti che bruciavano e che sicuramente se fossero rimasti ancora lì dentro mi avrebbero fatto ancora più male e allora la cosa che io dovevo fare era essere onesta con me stessa e quindi guardare tutto quello che c'era per poter far sì che lui vedesse come dire davanti a sé un cielo più limpido una famiglia più limpida e più trasparente e questo ovviamente ha comportato delle scelte anche importanti e per certi versi drastiche che non dico perché è giusto anche scoprirlo ma che comunque sono state delle scelte importanti e l'aspetto che io dico che bisogna guardare al passato non soltanto al nostro passato ma anche al passato di chi ci ha preceduto perché noi siamo anche un po' frutto delle storie che ci hanno precedute che quindi a volte si trasmettono anche attraverso il DNA e non solo e che dobbiamo assolutamente rivedere perché a volte ricollocare al proprio posto persone della nostra famiglia che magari hanno attraversato a loro volta dei momenti difficili può essere veramente il punto di volta ecco proprio di cambiamento ecco tutti questi messaggi tutti questi concetti li ritroviamo in una sola una cosa sola una cosa sola è il tuo ultimo per adesso romanzo perché mi hanno detto che non si deve mai dire l'ultimo romanzo si deve decidere il nuovo romanzo perché c'è sempre un qualcosa dopo ultimo mai quando tu ti rileggi avendo inserito in un libro come una cosa sola tante cose personali tante cose private tante decisioni anche dolorose che hai dovuto affrontare cosa provi? ma provo un senso di serenità infatti tanti me l'hanno chiesto ma come mai come ti sei sentita di raccontare delle cose così intime agli altri ma in realtà è stato come ho detto prima un esercizio prima nel raccontarle a me stessa e poi non ho provato assolutamente vergogna perché ho detto tanto è quello che deve venire fuori quella che io sono realmente e quindi non ci sono più maschere non ci sono più ombre perché tante volte appunto ci sono delle cose che rimangono nell'ombra e quest'ombra ci spaventa perché così nell'immaginario collettivo c'è sempre l'ombra come un qualche cosa di così di misterioso che può anche essere negativo in realtà per me l'ombra è semplicemente la stessa cosa che c'è alla luce semplicemente che non è illuminata e quindi l'esercizio che io ho fatto di portare luce anche lì e quindi di tirar fuori le cose quali erano e io mi sento veramente veramente tranquilla onesta e serena nei confronti del mondo anzi qualcuno mi ha detto ma avresti potuto fare un racconto in terza persona oppure raccontare con altri nomi ma in realtà per me non c'era motivo per me è stato importante così quando l'ho riletto mi sono emozionata di nuovo ecco questo volevo chiederti cosa provi oggi perché scrivere è una grande carica liberatoria noi affidiamo alla pagina bianca un qualcosa di nostro di intimo perché in qualche modo in questo modo diamo corpo alle nostre paure quando si dà corpo a una paura poi si ha anche più coraggio per affrontarla la si vede sotto una luce diversa come quando si confida un problema a un amico fidato vedi il problema subito sotto una luce diversa però quando poi tu ti rileggi a posteriori quando ormai la crisi è superata quando ormai il problema è stato risolto e quando tu ormai hai affrontato la vita e preso altre strade cosa provi nel rileggerti? forse dico che avrei potuto raccontare ancora qualcosa di più ecco credo che forse se io dovessi riscriverlo a parte il riscriverlo anche in maniera più ulteriormente più corretta perché la mia maestra è molto severa e mi ha insegnato mi sta insegnando delle cose molto importanti ma forse forse ci avrei aggiunto qualcos'altro avrei anche forse ampliato la narrazione della vita di certi personaggi avrei scritto altri capitoli ecco se dovessi pensare di riscriverlo ma non lo farò perché questa è un'opera che ha avuto la sua come dire il suo senso la sua come dire la sua manifestazione e tale deve rimanere però se avessi dovuto appunto rimetterci le mani forse l'avrei ampliato raccontando ancora di più ancora altre cose che insomma che riguardano questi personaggi forse avrei raccontato ancora di altri però magari nel nuovo romanzo potresti inserire cose tue e qualche fatto che ti ha riguardato e che non hai ancora raccontato facendoli interpretare i nuovi personaggi può essere può essere che sia già così il nuovo romanzo sarà qualcosa di intimista di ricerca di sé come questo o qualcosa di diverso ma diciamo che è qualcosa di un po' diverso nel senso che è come dire una storia che attraversa come dire un mezzo secolo che ci porta come dire a sondare diversi periodi storici comunque del novecento ma che può anche richiamare dei momenti passati ci sono degli aspetti molto intimi di questi di questi personaggi che hanno per certi versi il desiderio di essere raccontati ecco anche qui ci sono come dire ci sono delle figure che sono passate nella mia vita sono transitate nella storia della mia famiglia naturalmente diciamo raccontate con fantasia ma che è come se questi personaggi mi chiedessero che io parli di loro a volte è proprio come un incontro con queste essenze che mi dicono racconta delle nostre storie delle nostre vicissitudini e che le nostre vicissitudini possano essere d'aiuto per altri perché possono comunque portare qualcosa di buono perché questa storia anche se racconta comunque esperienze dolorose anche qui perché la vita comunque è fatta anche di tutti questi eventi ma è anche piena piena di di gioia piena di di simpatia piena di di allegria comunque perché ci sono dei personaggi molto molto vivaci molto vivi e che sono sicura che piaceranno bene allora il tempo a nostra disposizione sta per scadere io ringrazio Laura Zona che è voluta essere nostra ospite la invitiamo a tornare con il nuovo libro quando sarà pubblicato e invito anche tutti voi tutti coloro che hanno scritto un libro o hanno pubblicato un catalogo d'arte o qualcosa che comunque ruota intorno al mondo dell'editoria a contattarci alla mail deborabocchiardo chiocciola gmail punto com per venire in trasmissione e raccontarci la vostra esperienza di vita di artista di scrittore di creativo a tutto tondo la scrittura è da sempre uno dei modi più creativi per dare sfogo alla propria interiorità venite a raccontarcelo per oggi è tutto appuntamento alle prossime puntate grazie a tutti